Nonostante l'ordigno davanti alla pizzeria Sorbillo e le bombe di Afragola, nel 2018 sono calati gli omicidi di Camorra, le rapine e i reati commessi dalla criminalità minorile. Quella che però ha caratterizzato dal punto di vista giudiziario l'anno appena finito è quella che il procuratore generale Luigi Riello chiama la mutazione genetica della Camorra, ovvero la commistione nelle sue attività di notabili e persone insospettabili. A loro l'appello a non fare affari con la Camorra lanciato durante la conferenza di presentazione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 dal presidente della Corte d'Appello di Napoli Giuseppe De Carolis e dal procuratore generale Luigi Riello. Io credo che ci sia stata una mutazione genetica da parte della Camorra che è sempre più interessata a marcare il territorio per acquisire posizioni di potere sul piano finanziario. E' un giano bifronte, un'ala militarista, un'ala finanziaria e credo che i successi dello Stato siano stati importanti ma il messaggio che deve partire è che non conviene fare affari con la Camorra. Se guardiamo il complesso dei tribunali del distretto sono diminuiti anche quelli penali, le pendenze, quindi significa che il sistema sta funzionando. Purtroppo in tutto il distretto ci sono due uffici in grande sofferenza che sono la Corte d'Appello di Napoli e il Tribunale di Napoli Nord che non riescono a gestire la sopravvenienza enorme che arriva nel settore penale. Grazie. Grazie. Grazie.